Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano 4 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Scandici in direzione Bologna. In A11 invece a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo alla FIPILI dove a causa di lavori si registrano code a tratti tra Cascine e la Diramazione Pisa-Firenze in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece in direzione Livorno code in uscita alla Strassigna e tra Empoli Ovest e San Miniato. Cantieri di Firenze domani 14 ottobre in via Salvi Cristiani in orario 9.30 a 19 di vieto di transito dal Civico 7 a via del Bargeo. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!